Con i rilasci durante questi anni dei rotti parziali. Ovviamente un altro grande progetto che riguarda la Sicilia è il raddoppio della Messina e Catania, la tratta tra Gianquigliere e Fiume Prezzo, costo evidente del progetto 2 miliardi e 300 milioni interamente finanziati, si sta competendo la conferenza dei servizi, contiamo entro quest'anno di mandare in gara anche i relativi apparti, saranno due lotti tra Gianquigliere e Letoiana e Fiume Prezzo. Grazie